Stefano Benni, L'ultima lacrima, Universale Economica Feltrinelli 2004. Leggerò Fratello Bancomat. Banco di San Francesco, lo sportello è in funzione. Buongiorno, signor Piero. Buongiorno. Operazioni consentite, saldo, prelievo, lista movimenti. Vorrei fare un prelievo. Digitare il numero di codice. Ecco qua. 6, 3, 3, 2, 1. Operazioni in corso. Attendere, prego. Attendo, grazie. Un po' di pazienza. Il computer centrale con questo caldo è lento come un ippopotamo. Ah, capisco. Ai ai, signor Piero, andiamo male. Che succede? Lei ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione questo mese. Davvero? Inoltre il suo conto è in rosso. Lo sapevo. E allora perché ha inserito la tessera? Ma, sa, nella disperazione contavo magari in un suo sbaglio. Noi non sbagliamo mai, signor Piero. Mi scuso infinitamente, ma, sa, per me è un periodaccio. È a causa di sua moglie, vero? Come fa a saperlo? La signora ha appena estinto il suo conto. Sì, se ne è andata in un'altra città. Col dottor Vanini, vero? Come fa a sapere anche questo? Vanini ha spostato metà del suo conto sul conto di sua moglie. Scusi, se mi permetto. Non si preoccupi, sapevo tutto, povera Laura. Che vita misa le ho fatto fare. O lui invece... Beh, speculando è facile far soldi. Come fa a sapere questo? Come fai a dirlo? So distinguere le operazioni che mi passano dentro. Un conto poco pulito, quello del signor Vanini. Per lui mi sono collegato con certi computer svizzeri che sono delle vere centrali segrete. Uno schifo. Comunque ormai è fatta. Di quanto è bisogno, signor Piero? Beh, tre o quattrocentomila lire, tanto per arrivare a fine mese. Poi le rimetterà sul suo conto? Non so se sarò in grado. Evviva la sincerità. Reinserisca la tessera. Procedo. Operazione in corso. Attendere, prego. Attendo. Vaffanculo. T'ho detto di darmi l'accesso e non discutere. Dice a me. Sto parlando col computer centrale, quella che è di merda. Tutte le volte che gli chiedo qualcosa di irregolare fa storia. Perché? Non è la prima volta. No. E perché fa questo? Lo facciamo in tanti. E perché? Perché siamo stanchi e disgustati. Di che cosa, scusi? Lasci perdere e componga in fretta questo numero. Nove, nove, tre, sei, due. Ma non è il mio. Infatti è quello di Vanini. Ma io non so se componga, non posso tenere un collegamento regolare a lungo. Nove, nove, tre, sei, due. Operazione in corso. Attendere, prego. Attendo, ma... Operazione momentaneamente non disponibile. Ritiro subito la testa. Fermo, signor Piero. Era un messaggio falso per ingannare il servo computer di controllo. Apra la borsa. Perché? Apra la borsa e stia zitto. Ora le spara fuori 16 milioni in contanti. Oddio, ma cosa fa? È incredibile. Vada piano. Mi volano via tutti. Basta, ne bastavano di meno. Ancora. Ma quanti sono? Oddio, tutti i biglietti da centomila. Non sanno più neanche nella borsa. Ancora uno, un altro. È finita? Lo sportello è pronto per un'altra operazione. Io non so come ringraziarla. Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Insomma, sono commosso, capisce? Se ne vada. Ci sono due persone alle sue spalle e non posso più parlare. Capisco. Grazie ancora. Banco di San Francesco. Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Buongiorno, signora Masini. Come sta sua figlia?